è legittimo che tu dica Esa a volte impreciso scusa un attimo, posso farti una domanda? tu sai quanti stream ha fatto fino ad oggi San Giovanni? e che c'entra questo? rispondi alla domanda, lo sai? no, non ho idea, ma saranno milioni ha fatto 7 milioni di stream che è un numero allucinante fammi parlare come mai? sapendo benissimo, perché lo sai che sta funzionando quando canta lui che sicuramente non è il re dell'intonazione perché non lo è, non glielo dice a lui perché hai paura di essere impopolare invece con Esa te la prendi volentieri no, stai sbagliando, sei falso e pretestuoso come al solito mamma mia, sei falso tu quando dici che sei fatto come una campana mi devi far parlare e ti spiego non mi dire queste cose perché mi fai imbufalire perché sono false è dal primo momento, Esa, è vero che io ti dico che Stoni e che non mi piaci, è dal primo momento e che c'entra il successo di San Giovanni come ti permetti di dire che io ho paura di essere impopolare quando sono una persona che apre allora perché non lo dici quando cantano gli altri perché è stonato Esa, è stonato è l'unico impreciso qui dentro no, no, certo è il più impreciso di tutti per me come mai San Giovanni non te l'ho mai sentito dire ma perché se tu mi chiedi chiedimelo qualcuno mi ha chiesto se San Giovanni stona ah perché tu sei una che si fa problemi a parlare no, perché San Giovanni fa uno stile è un po' di più Grazie a tutti.